67 favoribili, 276 contrari, la Camera respinge. 20.01 e 20.21, se mi potete dare i pareri, lo chiedo al relatore. Sì, allora, 20.1 e 20.21, contrario. Il Governo? Il Governo conforme al relatore, Presidente. La ringrazio. 21, Cronbicler, se non ci sono interventi lo pongo in votazione, i pareri sono contrari, dichiaro aperta la votazione. Rostellato, Vico, Toninelli, Ciaochi, Qualcun altro non riesce a votare? Mi pare che abbiano votato tutti. No, Rubinato. Rubinato sta votando. Dichiaro chiusa la votazione. 95 favorevoli, 306 contrari, la Camera respinge. Passiamo al 20.21, Borghesi. Borghesi, prego. Sì, grazie, Presidente. Anche in questo caso abbiamo ritenuto che l'emendamento andasse presentato in quanto il Governo italiano, a nostro modo di vedere, dovrebbe attenersi puramente alla direttiva 2009-147 e non andare oltre a quanto è richiesto dall'articolo 6, che appunto non esclude o preclude la possibilità di importare dall'estero. Riteniamo pertanto importante non limitare il commercio, purché rispettoso delle leggi internazionali in merito e che ne sia dimostrata la legittimità della cattura o dell'abbattimento.